e andare avanti 1-0, il momento difficile secondo me è stato, cioè non è difficile, ho perso un po' il filo, diciamo, quel game che ho fatto 1-0 al secondo set, diciamo che mi sono un po' complicata la vita da sola, però ho cercato sempre di stare concentrata, di pensare a quello che dovevo fare io, di spingere, di tenerla sotto e ci sono riuscita. Grazie.